Tu vuoi sapere cosa fa un life coach? Tu vuoi sapere che cosa fa un life coach? Proverò a rispondere alla tua domanda Allora, sempre tu sei tra quelli che la scorsa settimana mi hanno chiesto Per sapere che cosa fa un life coach, proverò a rispondere Allora, il life coach è un allenatore di vita O meglio, il tuo allenatore della tua vita Un life coach è un tuo alleato Il life coach entra in scena quando tu senti fortemente di voler raggiungere un obiettivo nella tua vita Qualunque sia il tuo obiettivo, il life coach sarà il tuo allenato Perché dico qualunque sia il tuo obiettivo? Beh, perché nella vita di ciascuno di noi gli obiettivi possono essere tanti E possono essere diversi e differenti da persona a persona Ci sono persone che hanno come obiettivo probabilmente quello di cambiare radicalmente la tua vita O ci sono persone che hanno come obiettivo quello di cambiare una promozione della tua vita Oppure ci sono persone che hanno obiettivi legati alla loro spera professionale Come ad esempio ottenere una promozione o riuscire a rendere meglio lavorativamente Ci sono delle persone che invece hanno degli obiettivi legati alla loro spera sentimentale Come ad esempio conquistare l'uomo o la donna della tua vita O superare un momento difficile Bene, qualunque sia il tuo obiettivo di vita Il life coach è un tuo allenato Il life coach è il tuo allenatore Che cosa fa? Bene, il life coach ti allena a ragionare in maniera più oggettiva Prova a tirarti fuori e a farti guardare da un punto di osservazione più oggettivo L'ambiente nel quale ti Prova a farti raggiungere la consapevolezza di te stesso E la consapevolezza dell'ambiente nel quale sei immerso Raggiunta la consapevolezza di te stesso e la consapevolezza dell'ambiente in cui ti trovi Inizia un percorso assieme a te allenandoti affinché tu possa sviluppare il tuo potenziale Affinché questo potenziale che tu andrai a sviluppare Possa permetterti di raggiungere in maniera efficace il tuo obiettivo Raggiunta la consapevolezza Sviluppando il potenziale non resterà che buttare giù assieme al life coach Un piano d'azione che ti porterà direttamente al tuo obiettivo Ecco, ho provato a sintetizzare un lavoro abbastanza complesso quello del life coach Però credo di essere riuscito ad attivare gli elementi necessari Per provare di interpretare quella che è la mia professione Quello che fa un life coach